Siamo con Marco e Stefano di 2spaghi.it, uno dei più interessanti progetti di web 2.0 lanciati recentemente in rete e per prima cosa vorrei chiedervi una piccola introduzione su questa storia, su questo lavoro che state portando avanti. Raccontatemi un po'. 2spaghi è nato circa un anno e mezzo fa quando ci siamo avvicinati a quello che succedeva in rete nel web 2.0 in America, ci piaceva molto Delicious, ci piaceva molto Dig, Wikipedia e siccome la nostra passione è quella del cibo e volevamo scoprire dei ristoranti nuovi dove poter andare a mangiare, abbiamo pensato di fare un posto in cui gli utenti generano dei contenuti e ti suggeriscono dei ristoranti nuovi che in base alle tue preferenze poi ti potrebbero piacere. L'abbiamo lanciato 8 mesi fa, a luglio dell'anno scorso e sta riscuotendo un discreto successo soprattutto tra i blogger, la cosa è piaciuta perché è molto democratico come progetto, noi abbiamo creato all'interno di 2spaghi addirittura una sezione che si chiama Spagolista dove ognuno può proporre delle nuove funzionalità per 2spaghi e noi poi le realizzeremo. Diciamo che per ora siamo soddisfatti di come stanno andando le cose. Quello che vorrei sapere, considerando la vostra esperienza e considerando che siamo qui al Ritalia Camp, secondo voi progetti come i vostri, quindi un'iniziativa sostanzialmente privata, in che modo possono partecipare alla progettazione o alla riprogettazione di un portale istituzionale? Meglio ancora, in che modo l'iniziativa individuale può confrontarsi e eventualmente anche trovare una forma di collaborazione con le attività istituzionali online? Sicuramente i bar camp in generale, e questo di Ritalia Camp, sono un momento importantissimo di scambio di informazioni. Noi qui eravamo venuti con l'idea di portare la nostra esperienza di community partecipativa. Il fatto che esista la Spagolista, per esempio, non tutti i siti hanno un posto dove la gente può dire effettivamente cosa voglio trovare di questo sito. E quindi questa era l'esperienza che avemmo desiderato portare oggi, poi lo faremo magari più tardi. E quindi la collaborazione, la gente vuole collaborare. Noi per esempio siamo partiti con un'idea di due spaghi, un posto dove uno mette i suoi ristoranti preferiti. Non è bastato. Ci hanno chiesto che volevano i voti sui commenti, i voti sui ristoranti, di aggiungere il ristorante, di cambiare i dati, ci hanno chiesto anche di potersi incontrare tra di loro. Quindi la gente ha voglia di partecipare. Questo è sicuramente positivo, no? Ecco, ma secondo voi gli italiani in generale, l'utenza internet magari in particolare, è pronta per progetti di grandi dimensioni, fortemente basati sulla collaborazione proveniente dal basso? È un po' difficile dirlo perché esiste poco ancora di questo in Italia. Sicuramente secondo quello che stiamo vedendo di cosa funziona e di cosa non funziona sui due spaghi, abbiamo notato che il pubblico italiano va continuamente pungolato, bisogna comunque stare dietro, lasciare uno strumento bellissimo come ad esempio è un wiki, destinato lì a se stesso, difficilmente secondo noi in Italia funzionerà, c'è bisogno sempre comunque di un animatore della community, di qualcuno che prenda le redini della questione e comunque continui a invitare le persone a partecipare. è molto difficile fare questo, però bisogna stare comunque sempre dietro alla gente. Voi credete nella collaborazione forte tra progetti diciamo web 2.0 oppure immaginate che il social networking in generale rischia a un certo punto di saturare per cui non so come MySpace o altri, MySpace non molto 2.0 per capirci, si ruberanno utenti l'uno con l'altro? Direi di no, la collaborazione non può essere un limite, sicuramente è una prospettiva e dà possibilità di crescere, bisogna però trovare il modo positivo per collaborare, quindi noi per esempio su due spaghi ridistribuiamo i nostri contenuti, i contenuti che l'utente mette su due spaghi non sono i nostri, sono i suoi, quindi ci può fare quello che vuole, li può consultare con Sofide RSS, altri possono consultarli, li può salvare sul navigatore perché poi li userà per raggiungere il ristorante. Diciamo che la collaborazione, ci sono i widget, mi suggerisce il suggeritore fuoricampo che ci sono i widget, cioè io ho i miei ristoranti preferiti, ho il mio blog, li metto sul mio blog, la gente li guarda, mi dice cosa ne pensa, insomma l'interazione non è un limite, come la tecnologia non può essere, è un mezzo, non è il fine, quindi anche in questo caso la crescita, cioè la collaborazione fra i siti è sicuramente un fattore positivo. MySpace è l'esempio opposto, cioè io butto dentro tutto però in cambio ottengo veramente poco, anzi quasi niente, invece due spaghi è un contenitore di tutti. A questo proposito ci dovrebbero essere iniziative come per esempio OpenID che ti consentono di loggarti da una parte e accedere a contenuti di altri, poterli importare su altri siti e il discorso allora può cambiare. È possibile che magari, proprio per questo, il futuro sia una serie di progetti fortemente verticali, tutti legati fra loro, più che una grande community multipurpose in cui gli utenti si ritrovano e fanno di tutto e poi appunto ottengono poco in cambio come MySpace? Credo che sia la direzione verso cui stanno andando i progetti Web 2.0, oramai il grande collettore è già stato creato, è MySpace già e nessuno potrà mai raggiungerlo, quindi per forza chi è arrivato dopo deve fare una cosa molto verticale e poi speriamo che presto arrivi qualcosa che sia in grado di fare un po' da collante di tutte queste verticali e dare un modo semplice e abbastanza intuitivo per consultare tutto il mio network, di tutti i miei interessi da un punto esterno. Ultima domanda, la sensazione su come si stanno svolgendo i lavori in questa giornata, ho sentito vari pareri e qualcuno è stato un po' più critico, altrimenti c'è chi dice che comunque in generale l'idea che si faccia questo tentativo di provare a ridiscutere progetti istituzionali tutti insieme anche se poi non si riuscirà effettivamente a trarre dei risultati positivi, quantomeno però diciamo si è aperta una strada. Ma io la sensazione che ho è che ci sia molta gente che è venuta qua per vendere qualcosa, che non è lo spirito del barcamp, il barcamp è un posto dove io non vendo assolutamente niente semmai compro al limite, compro le idee degli altri, ce le sposo, mi confronto, trovo un momento di scambio dell'informazione, questa è la logica un po' del barcamp. Qui mi sembra che ci sia gente che tira sempre l'acqua al suo mulino, ho assistito un po' a delle scene di panico, gente che si alza e se ne va, non avevo capito che era questo lo spirito, capisco che può esserci un po' di confusione perché magari chi non è abituato o non sa come funziona, anche noi la prima volta, il primo barcamp che abbiamo partecipato, eravamo un attimo disorientati, spiazzati da questa cosa che uno seduto a terra mi potesse dire, ah ma guarda che hai fatto una fesseria perché qui dovevi farlo così, c'è anche questo, devi mettere in conto anche questa posizione. Però è chiaro che almeno la tentazione di portare il proprio in un progetto di questo tipo è forte comunque, è chiaro che forse bisognerebbe cercare di capire come fare a conciliare il manifestare o raccontare i progetti su cui si sta lavorando individualmente. Ma è proprio come esperienza, non il proprio che ti vendo qualcosa, cioè il proprio come esperienza. Forse questa è la differenza reale tra 1.0 e 2.0. Esatto, sì, cioè io ho una cosa che ti devo vendere, un CMS, una banda, un server, non ho bisogno, piuttosto regalamelo, io ci metto su qualcosa e ci facciamo un progetto insieme. Non è detto che il modello partecipativo di costruzione di un progetto stile barcamp debba funzionare per forza. Io magari dopo le prime ore di come sta andando oggi inizio ad avere i dubbi sul fatto che possa funzionare, però vedremo cosa riusciamo a... Eppure l'energia c'è, la volontà ha anche, probabilmente anche i materiali che circolano sono positivi, quindi forse è un problema di formato, un problema di abitudine? Forse è difficile mettere insieme troppe teste quando devi essere propositivo, probabilmente è più facile farlo in un gruppo più ristretto e poi allargarlo solo in fase successiva, quando hai già qualcosa di semi pronto. Bene, ringraziamo i ragazzi di Due Spaghi e buon proseguimento.